Ciao a tutti e benvenuti su Nove Microphones Academy. Oggi ci occuperemo della tecnica MS o mid-side. L'applicheremo alla registrazione della chitarra acustica, ma si può utilizzare anche in molti altri casi. La tecnica MS è formata da un microfono di tipo cardioide e un microfono bidirezionale, anche chiamato figura 8. Questa tecnica è molto comoda perché risulta monocompatibile in fase di mix e crea un suono molto avvolgente ed affascinante. I microfoni vengono posizionati a circa 20 centimetri dalla chitarra, in modo perpendicolare al dodicesimo tasto. Il microfono in basso è un NV01 in modalità cardioide. Questo microfono ci servirà per riprendere la parte centrale del suono. Il microfono in alto, sempre un NV01, viene posizionato con una forma polare di tipo bidirezionale o figura 8. In questo caso la facciata positiva viene messa a sinistra della sorgente sonora. Questo microfono invece si servirà per riprendere la parte dell'ambiente dell'immagine stereofonica. Il suono risultante sarà formato in questo modo. Il canale sinistro, microfono mid, più lobo positivo. Canale destro, microfono mid, più lobo negativo. Il suono che entrerà a 0 gradi o perpendicolarmente incontrerà in asse il microfono cardioide. Nello stesso momento incontrerà anche il bidirezionale nel null point, dove la sensibilità è al minimo. Il suono proveniente da sinistra incontrerà il microfono cardioide, ma anche una facciata del figura 8 dal lobo positivo. Queste due capsule forniranno poi il segnale left. Viceversa, il suono a destra incontrerà il microfono cardioide e il lobo negativo del figura 8. I due microfoni vengono registrati su due canali separati o una traccia stereo e avremo bisogno di un plugin decodificatore per ascoltare correttamente il risultato finale. Il plugin si occuperà di processare in tempo reale la traccia ed avere così la codifica corretta. In questo modo dovremo occuparci solamente di regolare la quantità di mid e la quantità di side, utilizzando i rispettivi fader. Invece, se vogliamo processare manualmente il suono, registriamo i due microfoni su due tracce separate. Posizioniamo al centro del panorama stereo il microfono cardioide. Il segnale del figura 8 viene duplicato su due tracce. La prima traccia viene pannata a sinistra, mentre la seconda traccia viene invertita di fase e pannata a destra. Utilizzeremo poi il volume delle ultime due tracce per miscelare il mid con il side. Oggi abbiamo visto come impostare la tecnica MS e potete abbinarla alle varie tecniche che abbiamo visto nei video precedenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!